Mi sembra che Matteo Renzi abbia dichiarato con molta generosità che lascerebbe, se un accordo viene trovato, la leadership politica di questa avventura a Carlo Calenda, perché Matteo Renzi non ha mai messo i propri destini personali davanti a quelli politici. Lo ha dimostrato fin quando si dimise da Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum. Io credo ci sia bisogno anche di questa generosità. I italiani devono rendersi conto anche di questa generosità.